ben tornati una nuova puntata insieme facciamo finta che fra poco torna insieme noi patrizio mariotti si torna a parlare di un argomento che fa molto attualità non vi sarà sfuggito che per agilare algoritmo usiamo i numeri al posto delle lettere ma noterete che il vostro cervello riesce comunque a dire che cosa abbiamo scritto di che cosa parleremo contatti alieni e astronautica e voi sapete quattro sigla mi aspetto fra poco nuovamente insieme bellissimo vedervi già in tanti collegati serata particolare questa ci faremo trasportare vedo tanti nomini scritti in verde anche dei nuovi abbonati grazie di cuore fedelissimi veterani abbonati ma anche c'è anche magari qualcuno che ci segue per le prime volte gli diamo un abbraccio di benvenuto in questa famiglia che facciamo finta che con il buon mess bet al regia rimanete con noi fino alla fine svediamo un po di date un po di eventi parleremo nel webinar e magari vi potremmo far recuperare anche l'editoriale che ho fatto qualche ora fa sul canale gianluca se ti piace la tua età ne parlo comunque fra poco io do intanto il bentornato all'amico patrizio mariotti ben ritornato fra di noi come stai ciao gianluca grazie abbastanza bene ovviamente speriamo che la connessione con il maltempo regga in maniera almeno dignitosa e quindi questo buon pro per tutti ovviamente la la serata è secondo me insomma abbastanza come dire affascinante seducente di per sé visti gli argomenti che andremo a toccare e quindi quando tu vuoi ovviamente possiamo come dire dare il go mette ringrazio anche lucia buzzi per il super sticker e tutti coloro che vorranno intervenire anche con aiuti supporto un like un commento un condivido allora patrizio guarda c'è una playlist interamente dedicata a te le tematiche le abbiamo già ben sviscerate io ti chiedo solo una cosa a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove amiche magari sono con noi questa sera tu vai piano racconta piano le cose così aiuti a mano di rado va bene bravo usa le ridotte come in salita con la neve perché il buon mess bet così magari riuscirà anche a mettere qualche foto nel corso della serata magari arriveranno anche dei video tutto molto piano respiriamo e ogni tanto ti faccio qualche domanda così tu prendi fiato va bene quando vuoi e quante ne vuoi partiamo bene allora il titolo la titascalia di questa serata è di per sé come dire evocativo no quindi andiamo a toccare un argomento che è certamente in piena connessione con altre puntate che abbiamo fatto insieme qui su facciamo finta che su un argomento generico che più diciamo è abbraccia un po tutte le tematiche le innovazioni tecnologiche del terzo rai naturalmente in questo caso specifico andremo a toccare non soltanto come in alcune altre occasioni ed è inevitabile l'interazione e la connessione aliena barra extraterrestre del terzo rai ma andremo anche a toccare un po più da vicino a vedere un po più con un occhio più attento alcune notizie alcune informazioni declassificate negli anni 90 dopo la caduta del muro di berlino e a quanto pare provenienti dalla sd e cioè dal sicerei dienste quindi il servizio di sicurezza e di controspionaggio delle ss che dopo il muro avrebbero consentito a ricercatori personaggi e insider a quant'altro di avere accesso a materiale precedentemente classificato devo dire che l'argomento di per sé anche per quanto mi riguarda è studiando ricercando e andando a valutare a visionare tutta una serie di documentazioni di report e di fotografie e e quant'altro alla mi ha lasciato abbastanza come dire toccato e sorpreso pur essendo un esperto diciamo mi posso classificare tale sia per la mia conoscenza sulla storia della seconda guerra mondiale in generale sia anche un po per i precedenti testi che ho già dato in edizione cioè asgard land e gli eri segreti del terzo Reich fra l'altro ce n'è un terzo che è in diciamo in dirittura è quasi allo sbarco sulle spiagge che riguarderà le Wunderwaffen in generale quindi tutte le armi segrete tedesche ma al di là di questo dicevo l'argomento è talmente tanto eclatante e talmente tanto come dire sorprendente che naturalmente ti ripeto ha lasciato anche me in alcune occasioni in alcuni momenti più che perplesso assolutamente sorpreso per cui intanto cominciamo a dire che come in altre occasioni ho fatto il contesto all'interno del quale ci muoviamo è un contesto assolutamente unico e speciale la germania del terzo Reich era un substrato un terreno no come dire una un contesto è diciamo un terreno di cultura particolarmente fertile e particolarmente favorevole allo sviluppo di determinate situazioni soprattutto di tante tecnologie ho ricordato in varie sedi e anche qui con te in vari modi anche diversi da quelli di stasera ma insomma in varie circostanze che già all'inizio della prima guerra mondiale il Reich era la nazione industriale più potente d'Europa con una popolazione che superava abbondantemente gli 80 milioni di abitanti anzi circa 83 e con un bel numero di premi Nobel per la fisica per la chimica per la matematica per la biologia per la medicina e a livello di astronomia eccetera dati proprio a scienziati e a ricercatori tedeschi naturalmente tutto ciò ha fatto sì che questa nazione questo stato attraverso poi la l'ascesa di quello che è stato l'NSDAP andasse ad abbracciare sempre più determinati contesti tecnologico scientifici ma derivati questi sì da un lato cioè dalla stessa natura della Germania di quegli anni ma derivato anche e soprattutto per certe come dire innovazioni e per certe punte accumulate di scientificità e di tecnologia anche da quella che era tutta la parte ufologica esobiologica e soprattutto esoterico misterica di che appartiene proprio a questo tipo di movimento politico a questo tipo di eh di organizzazione socio politica per cui eh sappiamo perfettamente che la Tule Geselleschaft per esempio era non soltanto una delle società segrete di punta insieme a quella che poi sarà l'Avril Geselleschaft insieme con la Tempelhof Geselleschaft insieme con il Germane Norden insieme con l'Ordine dei Cavalieri Templari Teutoni o dei Cavalieri Teutoni semplicemente all'Ordine dei Cavalieri della Pietra Nera e a tutta una serie di altre strutture particolarmente come dire eh segrete misteriche e molto importanti che diedero il loro il loro imprinting proprio al non solo al partito in ascesa quindi al partito nazionalsocialista ma diedero il loro imprinting anche a tutta una serie delle gerarchie tedesche quindi lo stesso Führer Himmler Goering Goebbels lo stesso Albert Speer il ministro degli armamenti e dell'industria oltre che valente architetto e tutta una serie di altri personaggi insomma erano particolarmente come dire eh impegnati e impregnati di queste conoscenze dicevo la Tule Geselleschaft è una di quelle società che fra gli altri argomenti aveva come fulcro come centro delle sue ricerche per esempio gli accessi a quella che loro chiamavano terra cava e quindi gli accessi al mondo infraterrestre quello che io chiamo habitat dell'intercapetine e a quanto sembra almeno in due o tre occasioni queste questi studi queste ricerche portate poi avanti non a caso anche e soprattutto dalle SS Nenerbe ottenero dei risultati perché eh fra questo c'è anche un uno diciamo di cui dei contatti principali che i tedeschi ebbero attraverso la Nenerbe non solo con eh con pagini chiamiamole così extraterrestri e o infraterrestri ma anche aliene certamente per ovvi motivi viene proprio da una delle iniziative della Tule Geselleschaft e probabilmente è quella dei Montitatra del 44 di cui parlerò fra poco naturalmente eh importantissima e tu lo sai c'era la società del Vril e di cui parleremo anche in quel caso ma c'era tutta una serie di di altre come dire di altre interazioni di altre connessioni magari meno conosciute o o addirittura sconosciute che hanno fatto da protagoniste che probabilmente hanno fatto da substrato per produrre tutte quelle tecnologie e tutti quegli avanzamenti che riguardano l'argomento di stasera ovviamente noi abbiamo già mh affrontato anche in puntate o meglio in chiacchierate precedenti con te il fatto che questa tecnologia si è espressa anche attraverso mh diciamo eh ritrovati come gli Aunebway Vril che erano due tipi di dischi volanti ovvero Flygander Scheiben noi abbiamo anche parlato dei Flugeraads che erano i dischi volanti a pala rotante e qui lavorò anche il nostro scienziato Belluzzo per esempio insieme con i tedeschi abbiamo parlato e parleremo dell'Andromeda Gerat perché lì sono direttamente coinvolte le ragazze dell'April Geselleschaft e abbiamo parlato pure del Silber Vogel di Sanger e di Etter e abbiamo parlato anche del Satelloid tanto per dirne qualcuna. Ah è fatto metto un punto e virgola perché vedo che stavi prendendo il collo con tutti i nomi in tedesco che eh ci fa piacere che tu ce li dici bene in tedesco ma io li dico in maniera più maccheronica così anche i nostri amici li possono poi ricercare questo perché eh ci tengo anche alla salute mentale del nostro Mesbet che si sente dire i nomi in tedesco e deve associare le immagini allora abbiamo parlato aspetto esoterico del lato oscuro delle tecnologie in mano certo al eh diciamo così al alla gerarchia ecco in mano alla gerarchia per cui ripetevo ci sono tutta una serie di contatti in questo caso e di interazioni extraterrestri infraterrestri e certamente lo dico da ufologo in questo caso o da studioso di tutti questi fenomeni da diversi decenni certamente ci sono stati diversi contatti anche di carattere alieno quindi gli extraterrestri cioè tutti tutti quelli e quelle creature sobiologiche non appartenenti a questo pianeta gli infraterrestri tutte quelle creature biologiche esobiologiche appartenenti o non appartenenti a questo pianeta ma residenti molto probabilmente e verosimilmente nell'habitat dell'intercapetine cioè all'interno della crosta terrestre del nostro pianeta in alcuni punti in alcune zone naturalmente e naturalmente gli alieni perché sono intelligenze ed entità presenti molto come dire anche spesso molto potenti e molto come dire dotate ma prive di un corpo fisico così come noi normalmente lo intendiamo mi freggia a ricordare prego no dico quindi stavo ricordando la società del Tule la società del Brill con queste tre donne dai capelli bellissimi bellissime che canalizzavano pare che canalizzassero ordini direttamente da sotto la capitale l'asa l'antica capitale del Tibet e canalizzando hanno portato una certa tecnologia tutti argomenti ne approfitto anche per dire tutti argomenti che trovate spiegati bene nelle quasi mille puntate in tre anni e mezzo di facciamo finta che il nostro professore va veloce ma voi sapete che ci sono tante altre puntate la tartide la terracava gli ingressi della terracava uscirà adesso il primo marzo un testo eh che insieme a me al buon Marco Marco De Graia e tutto sulla terracava e tutte le città e tutti gli ingressi che il professor Mariotti ci racconterà che citerà questa sera ed entriamo in questo in questo caso ad approfondire è una puntata un po' tecnica ma vi posso garantire che se avrete la pazienza di arrivare fino alla fine con qualche parola chiave potrete anche fare dieci puntate in una il bello del nostro professor Mariotti è che vi fa dieci puntate in una quindi entriamo sempre eh con la con la calma che ci ha contraddistinto per questo primo quarto d'oretta insieme entriamo nel vivo con un po' di foto e andiamo a vedere così ci addentriamo nell'argomento bene bene prego dici tu allora intanto eh dicevo intanto quindi a proposito di queste interazioni andrebbe ricordato che negli anni trenta e quindi non dopo Roswell dopo il quarantasette o meglio ancora dopo il quarantacinque Trinity che è accaduto prima di Roswell un anno e mezzo prima di Roswell ci sono stati tutta una serie di contatti tutta una serie di ritrovamenti ci sono stati una serie di ufo crash ma quel che più conta ci sono stati una serie di gentleman agreements già sviluppate sia quanto ne possiamo sapere e per quanto mi riguarda già a partire dagli anni trenta nello specifico nel 1933 e conosciuto con diversi nomi ma anche come patto di Grenada un primo incontro che sarebbe avvenuto fra entità extraterrestri e il presidente o meglio la presidenza degli Stati Uniti di allora con Franklin Delano Roosevelt ascrivibile probabilmente sia a nordici che a grigi e dall'altra parte del dell'Atlantico dalla parte dell'oceano nella nostra Europa nella altrettanti e ben ancora forse più variegati e diversificati i contatti con la gerarchia dell'NSDAP e quindi con diciamo i capi del Terzo Reich quali erano questi contatti in particolare ovviamente visto che hai citato e non a caso abbiamo citato spesso le ragazze dell'Avril quindi Gudrun, Eke, Traute, Vera e naturalmente Maria, Orsic che fra l'altro come molti sapranno era anche in ottimi rapporti di amicizia con Nikola Tesla e quindi ed è anche molto probabile che alcune chicche di carattere tecnico o di carattere scientifico siano state scambiate verosimilmente o probabilmente fra i due entrambi croati ed entrambi di Zagabria ma diciamo ci sono state tutta una serie di canalizzazioni che oltre al discorso specifico del mondo di Agarta o del mondo per esempio abbiamo detto già di Shamballa e quindi sotto l'Asa, sotto il Tibet eccetera ma venivano anche verosimilmente dai cosiddetti almeno questi sono i report più importanti ma anche forse i più conosciuti per cui la Maria e tutte le altre canalizzavano a partire dagli anni venti dei messaggi provenienti da Sumerian e quindi da Aldebaran quindi Aldebaran è la stella di prima grandezza di magnitudo della costellazione del Toro, una gigante rossa e questi extraterrestri si professavano, si dichiaravano come Sumerian gli iniziatori della civiltà sumera e ricordo sempre che nella diciamo mitologia e nella nomenclatura Hindu il monte Sumer è un monte particolarmente caro alla mitologia e alla divinità degli Hindu o comunque del subcontinente indiano e che la stessa cosa avviene in Giappone laddove la dinastia imperiale di tutti gli imperatori giapponesi fino ad oggi diciamo giunti fino a noi dipendono da qualcosa arrivato dal cielo su navi metalliche molte molte decine di migliaia di anni fa chiamate dai giapponesi Sumera Mikoto quindi pure tutta questa nomenclatura molto spesso simile e molto spesso come dire allineata qualche cosina ci deve dire a questo proposito questi Sumerian raccontavano alla Orsic di essere venuti sulla Terra circa 500.000 anni fa o meglio nel nostro sistema solare circa 500.000 anni fa a causa dell'espansione come tutte le giganti rosse avvengono chi ha un minimo di nozioni di astronomia lo sa si espandono molto e vanno poi piano piano ad inglobare anche i pianeti orbitanti intorno alla stella medesima quindi loro a quanto sembra furono costretti alla fuga dal loro sistema stellare e nelle loro peregrinazioni individuarono il nostro sistema solare come un sistema adatto alla loro residenza ma presero residenza e qui vediamo un'immagine ovviamente di un nordico, di un biondo nordico così come spesso nell'iconografia dell'ufologia e dei contatti e dei contattisti ma anche spesso delle abduction cioè dei rapimenti ma dicevo presero dimora e residenza non sul nostro pianeta ma presero dimora e residenza su un pianeta che si trovava a quanto ci viene raccontato dove oggi c'è la fascia degli asteroidi e conseguentemente in quello che da molti è chiamato Maldek Mallona, pianeta giallo e chi più ne metta quanto a nomenclature varie per una serie di motivi che sarebbe abbastanza lungo a qui esporre questo pianeta a causa di un contrasto fra le due razze che lì arrivarono cioè dal Debaran, una razza più evoluta, nordica, carina come dire, molto in, molto fashion mi verrebbe da dire come la descrivono loro e una seconda razza un po' più gretta un po' più, come dire, sempliciotta un po' più, un po' meno evoluta secondo i primi arrivarono entrambi qui ma queste due razze poi a quanto pare entrarono in un ulteriore dissidio in un ulteriore contrasto e questo contrasto sembrerebbe dalle testimonianze, dai report, dalle canalizzazioni ma non solo anche da alcuni scritti del grande Zakharaya Sitchin portarono poi all'esplosione, alla distruzione di questo pianeta per cui loro, i superstiti, si posizionarono prima sull'Amu detto in Anunna praticamente il nome Anunnaki di Marte e subito dopo sul nostro pianeta Terra quindi questo è un po' formando poi la società sumera e andando a formare il regno che fu di Sargon I proprio in Sumer e tutte le altre poi possibili diramazioni, connessioni e collegamenti come quelle per esempio con le divinità norrene quindi nel nord dell'Europa nel nord dando origine probabilmente ma non solo diversamente da quello alla civiltà iperborea e quindi alla Tule ma anche in altre situazioni geografiche penso agli dei dell'Olimpo dell'antica Grecia ma penso anche a tutte le divinità che si sono in qualche modo succedute nel subcontinente indiano e anche in altri luoghi in altri posti del pianeta del resto vale la pena di dire che secondo certe fonti soprattutto di insider ma non soltanto per quanto ne sappiamo le razze extraterrestri barra aliene che avrebbero avuto a che fare con il nostro pianeta almeno negli ultimi 100.000 anni sarebbero 998 e che quelle che hanno lavorato di impegno negli ultimi decenni di migliaia di anni alcune addirittura da centinaia di migliaia di anni di ingegneria genetica sugli ominidi e quindi su poi i vari tipi di razze umane che si sono succedute sulla superficie del nostro pianeta sono state o sono almeno 22 quindi come dire spazio porte aperte all'Arenaud diceva un tempo una pubblicità di qualche anno fa e quindi chiaramente insomma le interazioni nel corso delle migliaia di anni sicuramente sono state molteplici le manipolazioni genetiche o comunque le interazioni di tipo biologico altrettanto e quindi questa umanità ha visto probabilmente anche in conseguenza di questo civiltà come quella di Atlantide di Mu di Lemuria del Kumari Kandam di Iperborea come anche per certi aspetti la Doggerland come quella di Iggdrasil come la civiltà dell'impero amazonico degli Icuerta in Brasile in Amazonia e molte altre ok aspetta posso fare una domanda perché a confermare quanto ci stai raccontando gli antichi Veda raccontano di alcune guerre cominciate altrove e arrivate anche qua e raccontano anche di oltre 400.000 specie umanoidi che abitano lo spazio molte delle quali sono passate anche di qua ma ci stai raccontando un po' di quella che è stata l'era dell'oro quando quelli lì camminavano accanto agli uomini all'uomo esatto spesso potevano anche prendere i mogli quante umane volessero o viceversa e del resto c'è scritto persino sui nostri testi sagri da cristiani o da sedicenti tali diciamo così a proposito del fatto che gli angeli si innamorarono delle figlie dell'uomo e con essi giassero e con essi produssero figli ecco c'è anche al contrario c'è anche qualche maschile che ha avuto a che fare con quelle lì di sesso femminile più raro ma è successo ecco più raro ma come anche nell'esocamia delle abduction dei ravimenti alieni è più è più frequente il primo tipo che non il secondo ma come tu dici sia pur più raro c'è anche stato qualche maschietto umano pseudo umano che insomma ha avuto qualche avventura galante con qualche bella o meno extraterrestre che sia stata e chissà sarebbe carino ce lo raccontassero però secondo te a un certo punto questi qui vanno via vanno altrove decidono che non è più periodo per l'uomo di sapere che loro ci sono si rilegano in una zona della terra si mischiano con l'uomo e non sappiamo chi di loro in qualche modo ecco qual è la tua teoria diciamo che diciamo che come sempre non soltanto e qui diciamo nel tuo canale è chiaramente molto ben dichiarato tutto ciò diciamo che la storia e non solo quella ovviamente che ci è stata raccontata fino ad oggi in maniera ufficiale è come dire è a dire poco lagunosa per fargli un grosso complimento e per essere estremamente buoni per non dire che per la gran parte è falsità in parte dovuta ignoranza in parte volutamente dichiarata come tale ma insomma secondo me e lo dico sempre nelle conferenze nei seminari nelle interviste nei miei test insomma dovunque vengo chiamato ad intervenire dico sempre che nel nostro pianeta su questo contesto non c'è mai un O O ma c'è sempre un E E quindi c'è sempre una contestualità c'è sempre un parallelismo c'è sempre una simultaneità c'è sempre un accavallamento questo che significa significa che poiché sul nostro pianeta si sono sviluppati anche in tempi relativamente recenti quindi parliamo anche di poche decine di migliaia di anni fa una serie di eventi di tipo apocalittico per esempio impatti cometari per esempio fine delle claciazioni per esempio improvvisi e repentini potentissimi cambiamenti climatici per esempio diversificazioni sull'inclinazione dell'asse terrestre per esempio slittamento o modifica anche relativamente veloce dei poli magnetici e non solo ma anche come direbbe EPCUD di alcune placche tettoniche o comunque di alcune zone particolarmente sensibili del nostro pianeta per esempio il Ring of Fire del Pacifico responsabile peraltro anche secondo James Churchward della fine del continente Mu o meglio della civiltà Mu che fra l'altro aveva fra le sue divinità principali Amaterasu che ancora oggi è una divinità antichissima e molto venerata dell'antico Giappone e qui ci ricolleghiamo ai Sumeramikodo di cui dicevamo prima ma insomma al di là di queste piccoli incisi diciamo così certamente a causa di questi eventi quasi sempre naturali qualche volta anche co fattorialmente provocati da razze extraterrestri con le loro tecnologie e le loro diatribe qui sul pianeta ma probabilmente anche per un certo tipo di algoritmo che a livello galattico o a livello cosmico va a intervenire specialmente su questo pianeta per resettare per fare i cosiddetti grandi reset e tu che ne hai parlato con colleghi ricercatori sai per esempio che potrei riferirmi alla Gran Tartaria tanto per farne un nome fra i tanti o fra gli altri insomma per tutto questo coacervo di motivi verosimilmente la maggior parte degli extraterrestri che camminavano sulle strade del mondo insieme con gli uomini se ne sono andati a più riprese in vari modi per differenti motivi e con varie modalità ma in realtà sia i superstiti di alcune delle civiltà e dico solo di alcune delle civiltà che ho citato prima si sarebbero rifugiati all'interno della crosta terrestre e potrei citare per esempio fra gli altri non soltanto ovviamente Shamballa non soltanto Agarti non soltanto Agagor o l'impero amazonico potrei citare ovviamente e lo faremo poi le basi della Neuschwab in Antartide potrei citare ovviamente alcuni territori nella terra di Arnhem aborigeni australiani con il loro sottosuolo e con tutti i misteri che questo come dire in qualche modo include potrei citare il Montesciasta in California la città di Delos e chissà quante altre diciamo più che chissà e molte altre diciamo cose che però ci porterebbero fuori strada perché questa chiacchierata non riguarda direttamente specificamente i mondi sotterranei quindi si rifugiarono sotto se ne andarono altrove e probabilmente anzi certamente hanno lasciato qui sia degli umani dal quali sia degli ibridi sia dei come dire collaboratori sia degli amministratori a gestire per quanto possibile per alcuni aspetti in loro nome e per conto gli affari umani e questi umani o pseudo umani nel senso che magari erano ibridi che magari erano direttamente come dire intervenuti su questo pianeta dopo magari gli accoppiamenti di cui hai parlato tu piuttosto che in altre modalità siccome erano a conoscenza di molti fatti importanti avevano un know-how scientifico avevano un know-how esoterico e spirituale avevano la conoscenza di extraterrestri cioè degli dèi venuti dal cielo eccetera 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 da buoni umani mi viene da dire con molta ironia e fra virgolette invece di mettere a disposizione queste conoscenze e questo know-how diciamo nella maniera più democratica nella maniera più come dire liberale anche come dire se vogliamo dirla anche amorevole possiamo forse usare questo termine proprio a disposizione di tutti gli esseri umani hanno pensato bene di tenersela per loro e di tenersela per loro facendo in modo che il loro potere sugli esseri umani fosse simile uguale a quello degli dèi che gliel'avevano lasciato ergo leggasi la confraternità babilonese leggasi la fratellanza del serpente leggasi la congrega di rama eccetera eccetera già migliaia di anni fa nascevano le società segrete che poi negli secoli sono diventati poi le lobby le logge e quant'altro non è argomento di questa puntata detto ciò ah prego 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 no no concludi concludi se stavi finendo lì dicevo detto ciò e ritornando a bomba sul discorso legato a ehm alla presenza extraterrestre dicevo oltre al impatto di Grenada e oltre ai contatti diretti della gerarchia dell'NSDAP con questi tipi di extraterrestri accadono due eventi che sono abbastanza come dire significativi uno ecco qui vabbè vediamo una un'icona come dire un'iconografia riproducente in maniera eh come dire disommatoria di alcuni elementi la presenza ovviamente del Führer la presenza in questo caso di Aunebu perché questi discrivolanti qui disegnati appartengono alla famiglia tecnologica degli Aunebu e ovviamente schiere come dire no più o meno eh plaudenti diciamo al loro leader ma insomma eh dicevo eh ci sono tutta una serie di di elementi che fanno sì che sostanzialmente avvengono anche due elementi un po' più particolari uno dei quali riguarda pure la nostra Italia in realtà ecco qui vediamo per esempio a proposito degli Aunebu alcune delle versioni o alcune delle varianti degli Aunebu che partono dalla 1 in realtà e arrivano alla 14 cioè c'è un modello 14 degli Aunebu come nel caso del Vril che è un altro tipo di disco volante e che si rifà in qualche modo proprio all'energia del Vril dell'Avril Geselleschaft e che invece vanno dal modello 1 al modello 7 fra l'altro credo di poter dire come ho già dichiarato nel mio libro Asgardland sulle basi in Antartide ma così come dichiaro e scrivo anche nel mio libro gli aerei segreti del terzo Reich e tecnologia avanguardia scientifica della Luftwaffe credo che in Antartide quindi a Berlino quindi Berlino base noi Berlino base 211 base sotterranea Ragenbogen in costruzione per quanto mi riguarda alla fine degli anni 40 base Kosakin avamposto nel mare di Weddell che si rifaceva una vecchia base baleniera della Germania Cuglielmina e naturalmente Neumeyer Schaven cioè Golfo di Neumeyer dove oggi ancora oggi c'è una base antartica tedesca moderna quindi in quelle basi sicuramente c'erano degli Aunebu dalla serie 4 in poi e sicuramente c'era il Vril 7 che era il più evoluto di tutti ma vedremo dopo magari con l'ausilio di qualche immagine del Buon Mesbet vedremo dopo che probabilmente il più ardito il più importante il più fantascientifico di tutte le creazioni legate in maniera più o meno diretta alle ragazze dell'Avril fu l'Andromeda ma ne parleremo dopo dicevo che nel frattempo nel 1932 e 1933 probabilmente anzi verosimilmente anche nella nostra Italia si era già dato come dire spazio al controllo al monitoraggio dei cieli per oggetti volanti non identificati chiamati proprio ovni e mentre nel 32 c'era un gabinetto che si chiamava X32 delegato da Mussolini allo studio di questi oggetti che interfacciavano i nostri cieli del regno d'Italia da allora nel 1933 sembra o meglio penso sia realmente accaduto un UFO crash in quel di magenta non lontano da Vergiate e Brianza con addirittura il repertamento oltre che dell'oggetto anche con due cadaveri almeno due cadaveri di esseri che erano inclusi e contenuti in questo oggetto questi esseri sembrano essere stati classificati da diversi ricercatori che si rifanno nella fattispecie anche al libro segreto russo sugli extraterrestri un libro abbastanza moderno per la verità o meglio abbastanza contemporaneo e questi esseri esseri extraterrestri vengono chiamati alti bianchi o calenia questi stessi calenia contatteranno negli stessi anni la Germania del terzo Reich cercando un gentleman agreement e la stessa cosa faranno i nordici propriamente detti non sappiamo se pleiadiani se siriani se orioniani non sappiamo di preciso come dire la loro prevenienza specifica ma sappiamo che si trattava appunto come nell'icona precedentemente mostrata da Mesbet di esseri umani o umanoidi alti biondi con gli occhi azzurri insomma come direbbero gli stessi tedeschi di quell'epoca ecco qui vediamo un alto bianco come è disegnato a proposito dei calenia ma insomma come dicevano i tedeschi dell'epoca appunto di stirpe secondo loro naturalmente assolutamente ariana e conseguentemente tutti questi accordi si susseguirono e si accavallarono nella Germania nazista fino a che da quanto ne so io nel 1941 alcuni nordici preferirono abbandonare il gentleman agreement con la Germania del terzo Reich per dedicarsi ad altro e questo posto venne preso da altri extraterrestri nella fattispecie sembrerebbe alcuni tipi di grigi ma alti e soprattutto per quanto riguarda Wevelsburg quindi il castello delle SS che sappiamo essere presente in Germania con le sue forme particolari con la sua sfarsa e sonne con il suo sole nero e tutto il resto da parte dei cosiddetti drago o rettiliani quindi chiudo poi ti lascio certamente chiedere quel che vorrai come vediamo se in America c'erano state verosimilmente dal 33 due o tre razze extraterrestri che avevano contattato gli alti vertici del governo statunitense nella Germania del terzo Reich di razze extraterrestri che avevano contattato varie tipologie di società segrete e o di gerarchie ce n'erano almeno una mezza dozzina e non soltanto molto diverse fra loro dal punto di vista fisico dal punto di vista diciamo di società extraterrestre ma proprio dal punto di vista degli intenti e delle modalità operative nei confronti della razza umana e quindi già questo offre un ventaglio particolarmente come dire interessante e soprattutto a svolte anche inquietante su ciò che poi è avvenuto o che probabilmente è avvenuto anche in funzione della tecnologia di cui dovremo parlare io fra l'altro mentre ne approfitto per farti riposare anche per far decantare sedimentare tutte le informazioni che ci hai dato che ci stai dicendo invito a vedere questo video e tutti i video di mariti più volte perché dà una quantità di informazioni veramente considerevole ricordo che siamo in diretta quindi se voi scrivete domanda due punti alla fine andiamo a selezionare qualcuna e vi facciamo dare da mariotti direttamente le risposte a quelle che sono la vostra domanda io adesso qua ho un trailer se vuoi lo mando adesso certo che sì andiamo ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, io ne ho visto poco del trailer perché la connessione era un po' ballerina, però spero che voi l'abbiate potuto vedere con la sua omogeneità. L'abbiamo visto nella sua interezza, a parte gli studiosi di Kant che tanto vanno di moda ultimamente, però abbiamo visto bene le donne della società del VIL, abbiamo visto bene i velivoli, abbiamo visto bene tutta una serie di connotazioni che hanno fatto un po' da collante a quanto ci avevi appena introdotto. Assolutamente sì. Nella fattispecie quel testo ha il suo pregio, diciamo così, al mio avviso personale, da autore, lo dico, non soltanto e tanto per il fatto che, essendo un romanzo storico, però ha cento note a piedi pagina molto serie e molto qualificate e certificate per tutto quello che riguarda la storia tedesca in Antartide. Ma poi soprattutto ha delle appendici che sono, a mio avviso, assolutamente introvabili altrove, dove ci sono tutti i progetti segreti delle SS più fantascientifici, tutte le tipologie di SS, tutta la nomenclatura, tutte le armi presenti nella base, tutte le tecnologie presenti in quel luogo, tutti gli scienziati che hanno lavorato a quei progetti segreti e a quelle tecnologie e compresi anche scienziati facenti parte dell'asse fra gli altri italiani e giapponesi. Quindi comunque un testo che, a mio parere, non solo perché si chiede all'oste se il vino sia buono, ma insomma un testo difficile da trovare in giro e con alcune particolarità che sono più uniche che rare. Stessa cosa potrei dire dell'altro mio libro che è uscito tre mesi fa e che è Gli aerei segreti del Terzo Reich, tecnologia avanguardia scientifica della Luftwaffe, che fa altrettanto, esaminando nel dettaglio e molto da vicino, tutto ciò che la Luftwaffe e non solo ha prodotto a proposito di avanguardia scientifica e di tecnologia, non esclusa quella diretta, come dire, imprintatura aliena, mi verrebbe da dire, o extraterrestre. Infatti, parlando delle ragazze del Vril che avete visto sia pur fuggevolmente in questo trailer, c'è da dire, ripeto, che oltre al Vril 7 e agli altri tipologie di Vril, la cosa più importante a cui queste ragazze miravano era la costruzione dell'Andromeda Geret, che in tedesco significa dispositivo Andromeda. In realtà si tratta di quella che oggi, o meglio, gli ufologi già nelle decenni passati hanno descritto come sigaro o nave madre, quindi un oggetto di quasi 140 metri di lunghezza, 35 di larghezza, con 120 persone di equipaggio e con la possibilità di trasportarne altrettante, vediamo se, ecco, il nostro Mesbet ci fa vedere com'era l'Andromeda Geret e naturalmente vedete, fra l'altro, negli hangar laterali c'era lo spazio per tenere dei dischi Vril e dei dischi a un ebu, un po' come succede con le navi madre e con i sigari dell'ufologia moderna che ovviamente compaiono nel cielo e a volte fanno fuoriuscire dal loro ventre o meglio dal loro corpo principale oggetti più piccoli che possono essere oggetti telemetrici, droni o dischi volanti propriamente detti. Nel caso specifico va aggiunto che questo disco, o meglio, questo oggetto fusiforme, era costruito nell'area di Brandenburgo, presso la zona degli stabilimenti Arado. Arado era una delle grandi industrie aeronautiche tedesche che lavorava per la Luftwaffe e quindi per la Wehrmacht. Ci tengo, fra l'altro, questo a dirlo perché sembra una banalità, ma non tutti sanno riconoscere questa differenziazione. Spesso si parla della Wehrmacht e poi magari anche nei documentari ci fanno vedere i soldati tedeschi classici, ecco qui sono altre tipologie di immagini relative all'Andromeda Geret e o a navi madre o a sigari. Dicevo, spesso si parla della Wehrmacht, ma la Wehrmacht non è l'esercito tedesco. La Wehrmacht è quella che noi chiamiamo oggi in Italia le forze armate italiane. Poi all'interno della Wehrmacht e quindi delle forze armate c'erano l'OER che era l'esercito, la Luftwaffe che era l'arma aerea, la Kriegsmarine che era la marina da guerra e a parte c'erano le schiere di protezione, cioè le SS, che al loro interno avevano 25 differenziazioni diversificate. Quindi cominciamo a mettere un po' i puntini sulle I perché sennò pure con le nomenclature si fa tanta confusione e si rimane in un generico che non ci consente poi di andare a specificare e identificare meglio determinate cose. Dicevo, l'Andromeda Gerat viene poi costruito quando nel 1924 Maria Orsic con fondi non si sa bene dove e come reperiti riesce a costruire sulle indicazioni degli alieni di Aldebaran o meglio degli extraterrestri di Aldebaran una macchina che si chiama James Flugmaschine, una macchina per andare nell'altro mondo e con questa macchina prima in Baviera e poi nei pressi di Berlino dell'aeroporto di Tempelhof riesce a compiere un paio di voli. Il primo quello in Baviera per una ventina di minuti, una trentina di minuti più o meno da quello che si dice, senza particolari problemi ma senza neanche come dire aver raggiunto chissà quali vette di velocità o di prestazioni tecnologiche. L'altra, quella di Berlino, vola per circa un'ora quello che si sa, con raggiungimento di particolari primati tecnologici e soprattutto con guida mentale cioè la guida non era attraverso cloche o attraverso joystick che fra l'altro i tedeschi inventeranno nel 43-44 con il quale faranno tante cose ma con una guida mentale e probabilmente potrebbe aver avuto magari dei problemi di controllo o di concentrazione mentale per cui l'oggetto cade a terra senza particolari conseguenze per l'oggetto stesso e neanche per la Maria Orsic e la quale poi dopo questi due esperimenti cercherà ovviamente come è normale nella nostra società e sul nostro mondo fino a che sarà basata sul denaro cercherà ovviamente fonti economiche per continuare gli studi le ricerche e i test e costruire un oggetto sempre più coerente con le informazioni che gli arrivavano da insumerian che fra l'altro nelle prime fasi delle loro comunicazioni gli inviavano messaggi in carattere cuneiformi proprio come nella sua sumera. Allora ne approfitto perché visto che hai raccontato questa cosa di Maria Orsic allora intanto apro un inciso per chi ci segue in diretta il 23 febbraio 2024 chissà che giorno che mese che anno è spero che questi video possano sopravvivere veramente ai tempi moderni che sono un po' difficili per chi si occupa di divulgazione e in questi giorni è notizia proprio di Elon Musk che con Neuralink con la prima sperimentazione sull'uomo è riuscito dice lui al momento lui dichiara che non non si conoscono effetti collaterali per ora ma il soggetto da lui studiato riesce a spostare la freccina del mouse solo col pensiero quindi parrebbe secondo quanto dice lui aver ibridato l'uomo con la macchina ma a parer mio è un blando tentativo di un qualcosa che si fa in tutt'altra maniera quindi è un po' come chi va per imitazione di quello che ci hai raccontato di Maria Orsic e adesso poi ci torniamo vedete come chi non conosce le energie e le tecnologie finisce per scimmiotarle nella peggior maniera perché non serve andare a impiantare niente a nessuno la forza e la telepatia la forza del mentale e tutt'altro e sarebbero tecnologie che chi conosce la meditazione sa essere naturali dell'uomo stesso non servono microchip di alcun tipo semmai quello serve per altro però visto che abbiamo citato Maria Orsic donna bellissima come tutte belle erano le donne del Vril vedo che la cosa ha incuriosito molto allora queste sono le donne della società del Vril e in tempi successivi si dovrebbe aggiungere anche Vera che è un'ulteriore bionda molto avvenente naturalmente anche lei dico naturalmente perché le erano tutte belle quindi adesso c'è questa è una versione normale poi fa effetto quelle con i capelli lunghissimi tutte insieme chiedono che fine abbiamo fatto è probabilmente quella più conosciuta è proprio Maria Orsic di cui ci stavi allora li entriamo li entriamo proprio appunto in connessione molto diretta con l'andromeda Gerat perché ridicevo dopo questa queste vicende che vi ho poc'anzi esposto succede che alla ricerca di finanziamenti la Maria Orsic entra in contatto con il barone Fonsenbottendorf che era il capo della Thule Geselleschaft e come capo della Thule Geselleschaft questa organizzazione segreta disponeva grazie a molti come dire soci simpatizzanti e come dire sostenitori e quant'altro disponeva di parecchi soci o di parecchi simpatizzanti che avevano discrete finanze a disposizione e quindi eh Sembottendorf decise immediatamente di finanziare il progetto di Maria andando a dare fondi per poter costruire ulteriormente questi oggetti volanti che poi porteranno di primo acchitto al Vril ma poi all'andromeda Gerat nel frattempo nel 1933 sale alla cancelleria del Reich ovviamente Adolf Adolf Hitler e naturalmente le SS nel 35 formando le anenerbe ingloberanno immediatamente la S la Vril Geselleschaft all'interno del loro ambito proprio per poter continuare la sperimentazione di questi velivoli. Nel frattempo dagli anni venti e cioè dal 1922 lo scienziato Winfried Schumann che fra l'altro collaborava per certi aspetti all'inizio anche con Werner Heisenberg al progetto della bomba atomica tedesca ma che poi era una bomba all'idrogeno e non era quella che volevano fare una bomba fissile all'uranio come quella che fecero gli americani peraltro con uranio fissile proveniente dalla Germania ma chiudo parentesi diciamo così lavorò per quasi vent'anni al motore all'evitazione per cui l'andromeda Gerat aveva da un lato dei motori tachyonator che si basavano sulla bobina Kohler e su altri principi ad antigravità probabilmente anche connessi agli studi di Victor Schauberger ma non solo ma soprattutto aveva i motori all'evitazione costruiti e progettati in vent'anni di lavoro da Winfried Schumann per cui nel 1944-45 nella zona di Brandenburgo stabilimenti sotterranei pesantissimamente protetti e sorvegliati dalle SS in particolare le F-Stellen 4 e le F-Stellen 5 che erano incaricate proprio della sovrintendenza e la gestione del progetto Andromeda Gerat il dispositivo Andromeda vengono realizzati due modelli di Andromeda Gerat uno con il nome di Freyr divinità norrena maschile e uno con il nome di Freyr divinità norrena femminile quello che si sa per certo perché qui dobbiamo andare per quello che si sa diciamo per certo il resto sono ovviamente illazioni pure semplici è che nel marzo circa febbraio marzo e più probabilmente poi ad aprile 45 le truppe americane che spingevano nella zona diciamo centro centrosettentrionale della Germania quindi oltre il fiume Elba dopo aver superato la sacca della Rur incontrarono questo questo stabilimento incontrarono questa struttura e la cosa che si trovarono davanti era questo cilindro enorme grigio scuro di 140 metri quasi con gli angari ancora intatti con tantissime antenne su una delle due estremità all'inizio lo presero per una torre radio caduta poi entrando dentro meno queste sono le testimonianze si accorgero che c'era una sala a comando con dei vetri con dei cristalli azzurrati molto spessi e che erano state asportate tutte le attrezzature più importanti tutti i motori e quant'altro da questa nave quindi gli americani compresero che si trattava di un qualcosa come dire adibito al viaggio se non altro aereo o comunque atmosferico per non parlare di più l'altro oggetto che probabilmente era freia che era stato già completamente costruito per quelle che sono le testimonianze oculari dell'epoca volò già nel marzo del 45 nello spazio e non sappiamo se si regò su aldebaran o se si regò da altre parti ma quello che è certo è che le ragazze dell'avril compresa maria qui vengo alla risposta alla domanda che mi hai esteso sparirono proprio con uno dei due modelli verosimilmente quello completato dell'andrometa geret l'altra cosa che andrebbe detta fra l'altro era un oggetto che poteva viaggiare almeno nello spazio interplanetario ad almeno trecentocinquantamila chilometri orari era un oggetto che poteva probabilmente come era nelle intenzioni dei sumerian per farsi raggiungere dalle ragazze dell'avril capace di entrare in wormhole o in stringhe o comunque capace di entrare in un discorso di curvatura diremmo la star trek ma insomma diciamo quello che accadde è che di loro come del generale delle ss hans kamler ufficialmente non si è mai saputo più nulla e qui entriamo in un altro discorso che ho già fatto in altre sedi ma che mi sembra particolarmente importante ricordare e cioè che alla sconfitta della germania del terzo reich il 9 maggio del 1945 non è mai seguita la sconfitta dell'nsdap e nemmeno di un certo tipo di terzo reich conseguentemente come dico sempre almeno trattando questi argomenti a mio avviso sono esistite o esistono tuttora almeno quattro tipi di quarto reich e cioè il reich successivo il primo tipo è quello che un po' tutti conoscono per cui a livello di industria a livello di brevetti a livello di managerialità a livello di commercio a livello di politica o comunque di socio politica di un certo tipo e soprattutto a livello economico finanziario e bancario è quello che un po' compresa anche la come dire progetto paperclip e graffetta il progetto alzos per scoprire il livello a cui erano arrivati con le ricerche atomiche tedeschi insomma è quello che vede un po' appunto molti scienziati molti manager molto industriali molti banchieri tedeschi passare tal quali nelle mani degli americani a volte dell'impero britannico in alcuni casi dell'unione sovietica un secondo tipo di quarto reich è quello che ha permesso grazie all'organizzazione odessa l'espatrio in africa in sud america soprattutto cile brasile argentina perù ecuador e quant'altro di una serie di soggetti che erano destinati diversamente a come dire una serie di crocifissioni pubbliche più o meno meritate ma che insomma grazie a questa organizzazione riescono a scappare dall'europa e dalla germania e a darsi diciamo alla macchia terzo è più importante perché quello di cui io parlo nel mio libro asgard ma nel quad del quale accenni e parli anche tu nel tuo libro caro caro gialluca che io ho comprato e già letto il tuo libro sotto l'antartide e quindi chiaramente è quello in cui scienziati militari gerarchi e capi specifici poco conosciuti ma importantissimi rispetto alla nomenclatura ufficiale scappano dalla germania senza essere prigionieri né degli americani né degli inglesi né dei sovietici e si rifugiano in tante basi più o meno diciamo fantascientifiche nel senso che erano basi tecnologicamente molto avanzate nella sierra di roncador in brasile nel mato grosso in brasile probabilmente anzi certamente nella zona di agacor alle sorgenti del rio delle amazoni nell'amazzonia peruviana e brasiliana certamente in antartide come abbiamo già detto nella nocvabelland in patagonia sulle ande cilene e nella terra del fuoco ma anche in namibia e in angola per quanto mi risulta e in alcuni casi attraverso sottomarini e piccoli gruppi persino in nuova papua nuova quinea e nelle isole bismarck che come l'angola o meglio come la namibia e queste isole erano colonie tedesche nella prima guerra mondiale come lo erano della germania cui l'elmina anche il togo il camero nella tanzania per cui questo terzo ora questo terzo tipo di quarto rai che quello che poi probabilmente darà origine al cosiddetto ago della bilancia cioè quando negli anni 50 e 60 e forse anche 70 e 80 disponeva di una tale tecnologia e disponeva di tali dispositivi avanzati da un punto di vista scientifico che era in grado di fare non solo dago della bilancia ma forse da fare da super partes in tutti i sensi alla guerra fredda fra americani e sovietici e conseguentemente per quello che mi risulta nelle basi tedesche soprattutto antartiche le attività principali che erano diciamo demandate a chi in quelle basi si trovò a vivere a chi in quelle basi nacque nei decenni successivi erano tutte orientate all'ingegneria genetica al viaggio interstellare e alla produzione di velivoli sottomarini aeronautici e spaziali di tutti i tipi oltre che naturalmente la prosecuzione degli studi per quanto posso immaginare io delle armi a raggi come come lo stralcannon di erst schibold o come l'arma a raggi di strade strans o come altri diciamo ritrovati che già nel 44 45 vennero messi in funzione nel territorio del rai che di tutto questo o meglio è sui fronti che il territorio del rai che comportava e di tutto questo non solo parlo nel secondo libro cioè aerei segreti del terzo rai ma ne parlo anche nel prossimo di prossima uscita che riguarderà le wunderwaffen aus wunderland e quindi le a le superarmi nella terra delle meraviglie come gli stessi alleati avevano chiamato la germania per tutti questi motivi e che riguarderà tutte le armi segrete del terzo rai che di tutte le armi è un compendio completo per quanto posso aver lavorato io per cui la la le ragazze del vrile sono sparite nessuno sa ufficialmente dove siano ma le testimonianze oculari e documenti declassificati dell sd dopo la caduta del muro di berlino in germania est ci dicono che se ne sono volate via verosimilmente con uno dei due esemplari completato e operativo dell'andromeda gratis ecco anche qui provate a pensare a quanta mitologia quanti racconti terminano con quelli lì se ne vanno portandosi via delle persone che loro scelgono ritengono meritevoli o che hanno compiuto in qualche modo un obiettivo hanno portato a termine un compito che gli è stato dato e con questo compare in tutte le culture in tutte le mitologie abbiamo un po di foto guarda ti farei vedere un po di foto che abbiamo commesso e te le commentiamo insieme ecco questa per esempio può sembrare una tecnologia ehm come dire in qualche modo iper iperbolica per quegli anni ma slegata al discorso dell'astronautica propriamente detta che ancora dobbiamo toccare per alcuni aspetti piuttosto rilevanti ma sostanzialmente qui stiamo parlando della tecnologia infrarossi la tecnologia infrarossi ergo o alias visore notturno o alias eccetera eccetera ecco la domanda mi sembra quanto mai opportuna ed è un classico a cui risponderò a breve eh la diciamo questa tecnologia infrarossi era intanto vi faccio un po' di un inciso un po' tecnico se volete ma insomma questo che vedete è un caro panter quindi panzer cinque panter eh tipo ausvg e aveva questo questo sistema sopra che veniva chiamato biua e che gli consenteva di vedere di notte i nemici soprattutto è stato impiegato nel marzo aprile del 45 ma non soltanto ma preeminentemente dalla divisione munkenberg creata proprio nella città di munkenberg dove radunarono un centinaio di questi carri con il visone con il visore a infrarosso e con il quale potevano andare a scovare e a combattere di notte i t34 gli s1 gli s2 gli s3 sovietici eh che erano in maniera assolutamente preponderante e con i quali ottennero dei risultati prodigiosi questi panter ma non c'erano solo i panter che erano attrezzati con questo in realtà per migliorarne diciamo la capacità notturna questi panter avevano anche dei semi cingolati in questo caso l'SDKZ251 al di là delle sigle che ai non esperti dicono nulla ma sostanzialmente erano cingolati che disponevano uno si chiamava gufo l'altro si chiamava falche falco e un altro addirittura diciamo eh connesso con un pezzo anticarro da 40 mm che si chiamava greve cioè assiolo che è anche un tipo quello di strigiforme di rapace notturno ma c'erano anche tutta una serie di panzer grenadieren che erano di solito alloggiati su questi semi cingolati o al cannone anticarro o eh come dire trasportati dal panter che disponevano e credo che il buon maesbet dovrebbe avere qualche foto di quelle connesse a questo argomento in cui avevano lo Sturmgewehr 44 fucili di precisione da cecchino e quant'altro con la strumentazione a infrarosso fra l'altro ho citato una cosa che ha poco a che fare con l'astronautica ma che ecco esatto questo questo è un U e quello sotto vicino è un falche ma eh è quello che vedete il semi cingolato SDFKZ251 ma al di là di questo se volete appunto vedremo l'arma individuale o una delle armi individuali quello che vedete grosso appunto è il proiettore a infrarossi notturno ma dicevo quello che è ehm piuttosto importante per esempio segnalare e che trovate insieme a una infinità di altre notizie sul mio nuovo libro che appunto dicevo è in prossimità di uscita è che mh l'arma principalmente impiegata con l'infrarosso individuale era lo Sturmgewehr 44 eccoci qua questo è lo Sturmgewehr 44 e questo è un actieger un cacciatore notturno con tutta la strumentazione quella che vedete dietro le spalle sono le batterie tanto per capirci quindi chiaramente molto voluminose e molto pesanti con un'autonomia non particolarmente importante ma qui stiamo parlando dell'anno 1944-45 stiamo parlando di 80 anni fa e loro avevano già tutte queste attrezzature e queste attrezzature in parte provengono ecco perché sono state inserite perché in parte in piccola parte però hanno a che fare con i contatti extraterrestri con i contatti alieni e non solo quelle ma dicevo quello che è importante notare da un punto di vista strettamente militare tecnologico è che quell'arma lo Sturmgewehr 44 è ancora oggi sostanzialmente il fucile d'assalto lo Sturmgewehr 44 è ancora oggi l'arma il mitra il fucile d'assalto più diffuso al mondo che tutti conoscono come AK-47 Alexander Kalashnikov in realtà l'Alexander Kalashnikov pur derivante diciamo da uno studio parallelo in realtà non è altro con poche modifiche che lo Sturmgewehr 44 così come ancora oggi eppure questa è un inciso di carattere tecnico militare la MG 42 la macchine Kaver 42 la mitragliatrice classica la più importante la più potente la più diffusa durante la seconda guerra mondiale da parte della Germania è la stessa mitragliatrice sostanzialmente con piccolissime modifiche di aggiornamento che quasi tutti gli eserciti del mondo ancora utilizzano come MG 3 questo per far capire che 80 anni fa il fucile d'assalto fatto da loro e la MG 42 fatta da loro ancora oggi è l'arma più efficiente e più efficace che sia mai stata prodotta tanto per parlare di tecnologia tedesca detto questo quello che stavamo valutando è che sostanzialmente dicevo tutte queste attività per esempio appunto all'infrarosso per esempio i Foo Fighters quindi il V7 Zeppelin per esempio il Cougar Ball per esempio il Cougar Foyer per esempio il Rochappen che significa cappuccetto rosso in tedesco eccetera eccetera erano tutti strumenti atti al volo indipendente strumenti con una capacità di volo a reazione quindi o con un ramjet o con un stato reattore o con una turbina che però avevano la capacità di emettere campi di particelle che andavano a ionizzare l'aria intorno agli aerei alleati e li facevano precipitare senza sparargli neanche un colpo addosso perché praticamente interrompevano tutto il circuito elettrico e tutto il campo elettrico barra in quei pochi casi dove c'era un po' di elettronica dell'aeroplano e quindi i famosi Foo Fighters che tutti conoscono spero non soltanto per il gruppo Roch che si chiama così in questo modo ma i famosi Foo Fighters che tutti ritenevano fossero sostanzialmente degli UFO che accompagnavano le flotte aeree contrapposte durante la seconda guerra mondiale almeno sui cieli europei in realtà al 95% erano tutti ritrovati della tecnologia e dell'ingegneria germanica. Fra l'altro alcuni di questi oggetti come lo Schilt Crote che non avevo ancora citato che è la tartaruga corazzata e che sono tutte mine volanti ecco questo che vedete però non è un Vril non è un Ebu quindi non è un Flygander Scheiber o un Reichs Flygander Scheiben ma è un Flugeratz cioè è un disco a pale rodanti quindi che è un'altra cosa ancora è un altro tipo di disco volante prodotto da Reich sui quali hanno lavorato il nostro Giuseppe Belluzzo ma anche Mite, Schriever, Habermol e molti altri studiosi compreso Victor Schauberger e che quelle che vedete nel grigio della riproduzione ionografica sono sostanzialmente le pale che girano ma le pale che girano sono anche probrie perché qui stiamo sempre facendo un volo d'uccello molto parzialissimo sulla tecnologia del Terzo Reich sono anche quelle degli elicotteri che per primi i tedeschi hanno prodotto come il Draken e il Colibri prodotti dalla Flettner o dalla Fochia Kellis e che alcuni dei quali erano anche imbarcati così come sui sottomarini tipo 21 che erano i più evoluti o meglio va specificato che fino al 1944 quando uscì il tipo 21 U-Boot tutti le navi come dire che si immergevano di tutto il mondo americane inglesi italiane giapponesi tedesche eccetera erano tutti sommergibili vale a dire che erano tutti battelli di superficie che potevano immergersi quando è arrivato purtroppo per i tedeschi troppo tardi il tipo 21 e il tipo 23 non si parlava più di sommergibili ma si parlava di sottomarini cioè di battelli che potevano stare fino a quattro giorni sott'acqua senza mai risalire in superficie con torrette stealth quindi anti radar con caratteristiche anti sonar con siluri a ricerca magnetica e spolettati in maniera tale da ricercare in maniera autonoma radio guidata le navi nemiche con un'autonomia incredibile e con tutta una serie di dissuasori o meglio di contromisure agli asdic e ai sonar nemici assolutamente fantascientifiche fantastiche fra queste ricordo il pillenwerfer il pillenwerfer al o anguilla il sigl e esca o un altro tipo ancora di dissuasore che dissimulava completamente la presenza del sottomarino e deviava l'asdic e i sonar delle navi americane inglesi oltre che degli aerei americani inglesi su oggetti assolutamente come dire privi di ogni valore bellico ma che avevano nel frattempo svolto perfettamente la loro funzione di contromisure elettronica ecco perché giustamente prima è scappata ma è stata anche una sincronicità a quella domanda quante volte te l'avranno fatta ma quindi tutte queste tecnologie perché la versione ufficiale dice che la vera è andata come è andata allora rispondo velocissimamente che fine hanno fatto gli scienziati di cui sono allora molte di queste tecnologie poi andremo a toccare proprio come dire il core di questa chiacchierata c'è l'astronautica vera e propria neanche quella dei dischi volanti perché quella è oltre l'astronautica che abbiamo un po' toccato con gli Aunebo i Vrilli i Flugherrals e l'Andromeda Gerat ma non abbiamo per esempio toccato ancora di Glock e la campana e non abbiamo ancora toccato il Silber Vogel o il Satelloid o il Sonnen Cannone cioè il Cannone Solare vedremo di farne un piccolo accenno ma dicevo eh perché nei primi nel fin negli anni trenta e fino ai primi anni quaranta gli aerei reazione come me 262 come me 163 come il Natter cioè Vipera come per esempio il Comet appunto come per esempio la Rado la stessa ditta dove veniva costruito nei sotterranei l'Andromeda Gerat e che ha volato anche nei nostri cieli in Friuli nel 45 un bi reattore un ricognitore cacciabombardiere bi reattore meraviglioso diciamo così erano già quasi tutti i progetti se non dico pronti e ultimati ma in prossimità dell'operatività e questo vale anche per i sottomarini vale anche per i pelivoli posa coda come il Tripflugel come il Lerke come il Vespe ed altri i pelivoli che solo a guardarli come sono fatti sembra di stare in un film di guerre stellari ma è roba che è stata progettata cent'anni fa dai tedeschi quindi tanto per essere chiari e dicevo tutta questa roba era quasi pronta nel 1940 39 41 e chiesero ovviamente alle gerarchie al Reichs Luftfahrt Ministerium nel caso della Luftwaffe ovviamente all'ober comando della Marina nel caso della Kriegsmarine all'ober comando della Wehrmacht nel caso dell'esercito eccetera eccetera chiesero fondi per poter continuare a implementare questi studi poiché ribadisco queste sono conoscenze storiche specifiche ma storiche a pannaggio di chiunque fra il 1937 38 e il 1943 la Germania con armi molto efficienti e funzionali molto moderne quasi sempre e assolutamente diciamo produttive ma anche con strategie tattiche innovative come la Blitzkrieg cioè la guerra lampo erano riuscite in vari modi la Germania si era ripresa la Bohemia e la Moravia i Sudeti la Cecoslovacchia l'Anschluss cioè l'annessione dell'Austria dopo di che aveva conquistato Belgiolanda Lossemburgo e Francia Danimarca e Norvegia Polonia Cecoslovacchia Ungheria Jugoslavia Grecia Romania e Bulgaria in più era quasi arrivata alle porte di Mosca di Leningrado e di Stalingrado ergo con questo in Africa almeno fino a che ce l'abbiamo fatta insieme con la volpe del deserto Erwin Rommel eravamo riusciti arrivare a cento chilometri da Alessandria dal canale di Suez con la battaglia di El Alamein in funzione di tutti questi successi la gerarchia del Reich che diceva diceva ma io per il momento me la sto cavando molto bene con le armi che già ho e quindi spendo i soldi che ho per implementare queste armi quelle altre sono interessanti ma lasciamocene per un domani se ci dovessero servire perché comunque richiedono molti studi molto impegno economico e molta progettazione quindi per il momento siccome le cose vanno a gonfie vele diciamo così e lo sto mettendo in termini molto grossolani perché devo dedicare tutte queste risorse tutte queste energie a queste cose che sono futuristiche barra futuribili aspettiamo un po' e nel 43 le cose cominciano a cambiare per tanti motivi che qui non vi sto a raccontare e quando le cose si cominciano a mettere molto male nel 44 ma veramente male allora nell'ultimo anno di guerra ci sarà la rincorsa folle disperata e dissennata a tutti i progetti a tutte le fantasie a tutte le fantascienze e a tutte le tecnologie che prima erano state tenute in un cassetto ergo come dice fridolin von sanger und etterlin generale delle panzerwaffen utilizzato sulla linea gustav quindi sulla linea di cassino nel nostro paese in italia le guerre non si vincono quando le armi segrete non sono ancora pronte e aggiungo io come ho aggiunto sui miei libri quando le armi segrete non sono ancora pronte o lo sono in numero così esiguo e così limitato per quanto iperboliche che due andrometa gerat 600 me 262 una cinquantina di aunebue di vril qualche il melsturmer un po di una divisione corazzata attrezzata con gli infrarossi e quant'altro non bastano a quel punto per cambiare le sorti della guerra e vincere contro una potenza come l'america contro l'unione sovietica e contro l'impero britannico punto e arriviamo all'astronautica bene qui entriamo in un ambito che è particolarmente come dire mirabolante come se l'andrometa gerat o ivrillo gli aunebue o molte delle cose che vi ho solo accennato ci sono tre libri interi che chi avesse voglia di leggere potrà leggere per avere un compendio di quello che succedeva in quel paese in quegli anni e durante la seconda guerra mondiale ma qui entriamo in un ambito che ripeto è veramente mirabolante allora andiamo subito a al core più più significativo e più eclatante nel 1990 un cacciador petiniere americano nella zona dell'atlantico fra le azzorre e la terra e terra nova quindi praticamente nel nord est nel nord ovest scusate dell'atlantico intercetta un segnale radar che fra l'altro credo gli sia stato consegnalato anche dal norad credo che si sappia che cos'è il norad negli stati uniti intercetta un segnale radio di un oggetto che precipita dallo spazio e va a fare uno splash down in quella zona di mare il cacciador petiniere che era abbastanza vicino a quella zona o forse inviato appositamente in quella zona trova quella che noi potremmo oggi come oggi diciamo anche da pubblico da comune cittadino del mondo identificare come una sorta di navicella di apollo dell'apollo e va trovando questa navicella dell'apollo in mezzo al mare e la tirano a bordo naturalmente essendo abbastanza piccola conteneva tre uomini di equipaggio quella navicella e si accorgono che questa navicella è molto usurata è molto logorata sembra quasi antica in un certo senso e poi si accorgono che c'ha l'aquila della lutwaffe e la svastica disegnata sopra e tirano su questa navicella e dentro ci trovano tre uomini ancora vivi in buona stato di salute che sembravano come essersi risvegliati da poco da un sonno da un criosonno o da una sorta di ibernazione da una sorta di animazione sospesa e questi tre austronati si chiamano ols sigmar nella fattispecie airic wall e schultz feinburg nel 1943 questi tre piloti della lutwaffe partono con un razzo v2 modificato per un viaggio interplanetario quello che accade e che vengono ovviamente poi portati negli Stati Uniti e dimostrano l'età con cui erano partiti cioè 35 anni dopo essere stati nello spazio per 47 anni ma l'equipaggio del cacciatore petiniere non trova nella piccola navicella nessuna traccia di cibo né di acqua né riserva di ossigeno nulla del genere e quindi cominciano come dire le domande su questo che è un mistero assoluto e sottoposti a macchina della verità sottoposti a regressione ipnotica sottoposta ipnosi tal quale e sottoposta anche a sostanze specifiche di tipo allucinogeno di tipo psicotropo vengono interrogati per capire chi siete in realtà da dove venite e che ci fate qui e le risposte coerenti al cento per cento di tutti e tre i piloti sono siamo partiti nel 43 da una base segreta non lontano da pinemunde quindi non sulle isole nel baltico ma vicino a stettino siamo partiti in gran segreto il nostro compito era viaggiare nello spazio andare nella luna o probabilmente anche oltre questo questa zona e ritornare sulla terra atterrando in un poligono è sempre baltico un po come accade è come è accaduto fino agli anni scorsi col poligono di baigonur in ursia dove non c'era uno splashdown come ci hanno abituato gli americani diciamo con i progetti gemini apollo mercury eccetera ma con le saiyut che tornavano sostanzialmente a terra cioè nel poligono di baigonur o o altri poligoni che che per quel che ne possiamo sapere e conseguentemente loro dicono viaggiavamo nello spazio siamo usciti dalla dall'atmosfera terrestre a un certo punto abbiamo avuto un'anomalia in una delle due capsule indipendenti uno dei nostri compagni non si sa quale dei tre almeno per quelle che sono le testimonianze ha perso i sensi dopodiché noi abbiamo visto questa sorta di raggio verde ci siamo come addormentati diciamo così ricordiamo di aver visto un posto con delle sabbie rosse con delle sabbie arancioni con dei soli con delle lune nel cielo dopodiché l'unica cosa che vi possiamo dire è che abbiamo visto poi equipaggio del cacciatore petiniere questo mare dove ci ritroviamo non sappiamo altro e questa cosa per quanto se ne può sapere da questi report è la cosa che è rimasta tale cioè così tale è rimasta nel frattempo quello che è accaduto è che i due cioè nella fattispecie ols sigmar e schultz feinberg nel frattempo dopo il 1990 nell'arco di cinque anni sono morti invecchiando dei improvvisamente dei 47 anni che gli spettavano diciamo biologicamente parlando l'unico che sopravvive è eric vol che sopravvive fino al 2001 dove muore pure lui e nel corso di quei dieci anni si invecchia dei 47 anzi 57 anni che gli sarebbero spettati in più rispetto ai 35 nei quali quali era partito una chicca o meglio una particolarità eh severa così come c'è stata come così come è stata diciamo declassificata e riportata è che eh il centro di controllo un po' della serie Houston abbiamo un problema tanto per capirci il centro di controllo principale si trova a Wilhelmshaven Wilhelmshaven è un centro importante marittimo portuale fra Kiel e Brema e Flensburg e Oldenburg quindi stiamo parlando della costa del mare del nord fra la Danimarca e l'Olanda eh zona peraltro di sottomarini tedeschi di base tedesche di sottomarini eccetera eccetera dove c'era il centro di controllo principale audite audite sapete qual era il centro di controllo secondario di questo lancio nel 43 la cittadina costiera laziale di Anzio guarda caso cittadina dove nel gennaio del 44 ma non aggiungo altro perché le vere ragioni dell'operazione Shingol cioè dello sbarco di Anzio e Nettuno sono state certamente altre ma insomma la cittadina dove poi dopo pochi mesi si si sveglia il famoso sbarco aggiungo anche però questo sempre per quella sorta di sincronicità particolarmente strana chiamiamola così definiamola strana e lasciamola come sincronicità e nulla più perché non avendo documentazione certificata oltre le illazioni oltre le sincronicità non possiamo permetterci storicamente di andare però guarda caso strano in Ucraina e cioè Lugansk e Donetsk cioè il Donbass e cioè la Crimea quindi parliamo di zone che diciamo negli ultimi anni sono agli onori della cronaca quotidianamente no Gianluca e tu poi lo sai perfettamente visto che con i tuoi programmi di attualità hai toccato anche questi argomenti no ma voglio dire in quella zona e ne parlo nel mio libro questo caso Meridiano 361 parallelo 181 terre incognite dintorni continenti scomparsi civiltà perdute città misteriose luoghi segreti uno dei infiniti paragrafi di quel libro che fra l'altro è un volume 1 quindi ne seguiranno altri ma in quel libro parlo delle piramidi e delle gallerie tecnologiche ritrovate dagli archeologi dagli scienziati russi alcuni casi incidentalmente altre volutamente cercate che sono in numero molto cospicuo e molto segnato proprio in Crimea e proprio in Donbass aggiungo i motivi sono di tipo geopolitico strategico e di tipo finanziario bancario e di tipo come dire militare o di opportunità ma al di là di tutte queste cose che andrebbero pure quelle spesso e volentieri riprese per far comprendere realmente un po a chi ci ascolta come stanno veramente le cose o meglio come si avvicinano di più alla verità le cose di questo mondo guarda caso strano quando viene fatta desert storm o le due guerre in Iraq comunque a certi livelli si parla di un cruscotto aeronautico molto avanzato o di parti di oggetti legati a un portale che la guardia di Saddam Hussein avrebbe trovato nel deserto dell'Iraq che chiaramente riguardava a Siria, Babilonia, Sumer, Ur e Accadi e quindi fino all'ultimo se vogliamo parlare risalendo alle origini fino agli Anunna e quindi pure lì guarda c'è stata la guerra ma guarda pure lì hanno trovato qualcosa di strano e altrettanto qualcosa di particolare di volante sembrerebbe uso centomila volte il condizionale essere stato trovato in alcune grotte afghane e guarda un po che pure lì dopo un po per tanti motivi ci arriva la guerra io mi fermo qui però le sincronie cominciano a essere parecchie Gianluca assolutamente e poi anche strane visite di esponenti religiosi nelle medesime zone in Antartide o in Arabia Saudita bravissima ecco che comunque c'è c'è da unire dei puntini eh sì assolutamente sì assolutamente sì fra l'altro una novità chiamiamola novità ma io almeno l'ho incrociata da poco tempo è venuto alla ribalta un testo scritto da un ecuadoregno da un cileno un po qualche decennio fa probabilmente non saprei dirti di preciso ma che racconta in maniera tutto spagnolo ma che racconta comunque in maniera abbastanza fantasmagorica la presenza di un'olteriore base tedesca in Antartide che si chiamerebbe base Siegfriedo e di questo ho dato anche un'immagine diciamo iconografica eh e la base si troverebbe non come nel caso della Neuschwabland e quindi di noi Berlin e a che è sub almeno per quello che mi riguarda è sub glaciale e quindi grotte sub glaciali con canali sub glaciali e grotte scavate anche da fenomeni geotermici quindi acqua eh a temperatura molto calda così come nelle valli nell'oasi di Schirmager poi riscoperta dagli americani come oasi di Bungere sui monti Muligolfman dove c'è una temperatura di più 14 tutto l'anno e dove non solo ci sono floridure algali molto importanti quindi c'hanno ficee, cloroficee, rodoficee, feoficee quindi tutte le alghe colorate di tutti i tipi che sono alla base della catena della vita o di una delle catene della vita ma naturalmente una serie di endemismi ecco una una serie di endemismi anche di tipo eh sia eh flora sia fauna più evoluti che gli stessi tedeschi per primi in Neuschwabland in queste valli sui monti Muligolfan vanno a eh trovare a ripertare in questo caso si parla di una base quindi non in quel come stiamo dicendo sub glaciale sotterranea o costiera come Cosaggin e Neumeyer Schaffen ma stiamo parlando di una base sottomarina sottomarina vera e propria sembra a costruita a duemila metri di profondità nel mare di Weddell e vicino alla penisola di Weddell proprio come la copertina ci lascia intuire in questa base ci sarebbe stata addirittura la presenza dello stesso Führer e quella di altri gerarchi più o meno importanti con l'intenzione di continuare a costruire ovviamente tecnologie belliche particolarmente evolute particolarmente importanti e con lo scopo al momento opportuno di ritornare in superficie come dire di pareggiare i conti con le forze degli alleati questa è una una sintesi estrema insomma una summa estrema di quello che sostanzialmente dice questo testo ma è interessante notare alcune mh sofisticazioni alcune particolarità tecnologiche come una sorta di eh meglio non meglio identificati eh strumenti medico ehm rigenerativi che avevano consentito al Führer una serie di gerarchi a una serie di personaggi di mantenersi eh più o meno con gli stessi anni del millenovecento quarantacinque anche negli anni duemila per quanto mi riguarda in eh con come dire con dichiarazioni e studi un po' più eh probabilmente certificate e e coerenti il vero Führer almeno per quello che ne so io dovrebbe o potrebbe essere morto nel milenovecentosettantadue o settantatré al confine fra la Namibia e l'Angola dopo essere stato naturalmente anche in Argentina e in Brasile e anche nella Noi Schwabland ma questo è un altro discorso e chiudo la parentesi noi ci facciamo un'altra puntata di tre ore ma già stasera ma dicevo eh questo questo testo può essere interessante come un'ulteriore alternativa ma anche questo testo che viene ovviamente da tutta una serie di testimonianze di racconti di documentazioni eccetera tipicamente sudamericane e quindi mi rifaccio per esempio a personaggi di grande calibro come Michele Serrano come Heisman come altri personaggi del genere che hanno molto lavorato su questa parte diciamo del terzo Reich in Sud America e mi sembrava giusto poterne parlare perché ehm è quelli un ulteriore elemento diciamo vero o o non vero che però va a collocare un'ulteriore base nazista tecnologicamente avanzatissima non soltanto in Antartide ma addirittura a livello sottomarino del resto eh e qui entriamo pure invece in una certificazione più coerente probabilmente più probante eh pochi sanno che i tedeschi avevano una base meno importante di quella della base 211 in Noi Schwabland ma avevano una base che si chiamava eh 103.103 nel nord della Corellandia proprio a come dire di faccia al circolo polare artico quindi al polo nord propriamente detto base che serviva da approvvigionamento per i sottomarini tipo 21, 23 ed altre tipologie e che sembrerebbe essere stata smantellata alla fine degli anni 40 o all'inizio degli anni 50 ma una delle particolarità di questa base e la collego anche a determinati ehm ulteriori scritti e testimonianze avute nel settecento quindi diciottesimo diciannovesimo ventesimo secolo di esploratori artici e antartici che narrano al nord della Corellandia la presenza non soltanto di isole che poi ufficialmente non non sembrano più essere state trovate o scomparsi o mai trovate o mai ritrovate comunque ma alcune testimonianze parlano anche di una sorta di eh sperone roccioso in quel del polo nord che qualcuno chiama Pedras Nigra e che eh somiglia se vogliamo dirla un po' alla copertina del tuo libro ehm Gianluca e che si troverebbe proprio al polo nord e sarebbe una roccia totalmente magnetica di cui naturalmente è tutto segretato e nessuno ci ha mai fatto sapere nulla sia per quanto riguarda il polo nord e a maggior ragione ecco come tutti sappiamo specialmente per quanto riguarda l'Antartida e il polo sud ehm aggiungo inoltre e questa è una cosa che eh appunto qualcuno probabilmente conosce chi insomma sta un po' dietro a questi argomenti è che mh in una struttura sotterranea tecnologica molto antica in Alaska è stata trovata una piramide nera molto grande molto molto consistente molto volumetricamente eh come dire significativa eh ascrivibile non si sa bene quale o antica civiltà o struttura sotterranea extraterrestre eh anche forse dei nostri giorni però mh strutture di roccia nera o piramidi nere fra il polo nord e fra l'Alaska eh fra l'Antartide propriamente dette eccetera sembra sembra uso ovviamente ancora una volta il condizionale sembra che in vari posti del mondo comincino a venire fuori d'altronde Bird lo dichiarò in un'intervista bisogna prepararsi a invasi invasioni di eh velivoli di alta tecnologia proveniente da eh entrambi i poli ecco qui eh ma d'altronde d'altronde ci sarebbe da aggiungere Gianluca che a parte Bird e poi Bird noi lo conosciamo parlo di noi intendo dire quelli che un po' eh appassionati curiosi o comunque affascinati da queste tipologie di argomenti magari se sono andati a vedere che cos'era la missione Egg Jump magari se sono letti il diario segreto di Richard Evelyn Bird magari come faccio io sono andati a vedere che cos'era la missione eh wind eh wind mil uno due tre o la deep frizz uno due tre la missione Argus con lo sgancio di bombe all'idrogeno sull'anno fa nell'anno geologico cinquantasette cinquantotto eccetera 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 ma ci sarebbe da aggiungere che tutto quello che riguarda l'astronautica nazista di cui fra le varie abbiamo adesso accennato la presenza di questi tre sedicenti astronauti eh o cosmonauti di cui ho parlato e naturalmente tutto il resto di cui ho accennato e tutto il resto di cui ancora non ho accennato o di cui non potrò accennare per ovviamente per i ristringimenti temporali di tempo della nostra chiacchierata ci sarebbe da dire che ovviamente andando per esempio a toccare di gloche la campana quello strumento come qualcuno saprà era non solo uno strumento antigravità creato inizialmente come motore antigravità ma probabilmente io dico incidentalmente ma forse no doveva essere un oggetto multitasking per cui ecco per cui era non soltanto antigravità ma era anche un oggetto che poteva servire allo studio e alla come dire affinamento delle radiazioni sugli esseri umani e sugli esseri viventi ma era anche un oggetto che poteva consentire varchi nel continuo un spazio temporale e quindi creare delle soluzioni di continuità all'interno di questo tessuto definiamolo impropriamente così e consentire quindi viaggi nel tempo siccome gli americani nel frattempo nel 43 fanno il philadelphia experiment probabilmente basandosi anche non soltanto ma anche su alcuni studi di tesla e poiché questo esperimento va a interfacciare questo tipo di argomenti ne nasce poi o ne consegue anche il progetto montauk di cui tu sicuramente hai sentito parlare il quale insieme col philadelphia experiment parla proprio di viaggi nello spazio e nel tempo guarda caso strano i nazisti facevano o stavano per fare o hanno fatto dopo la seconda guerra mondiale cioè dopo il maggio del 45 una cosa simile o abbastanza come dire analoga e guarda caso strano ci sono tutta una serie di report in questo caso sia di insider vedi per esempio corey good vedi per esempio emery smith dove viene parlato che viene detto e dichiarato che la tecnologia tedesca della seconda guerra mondiale e proveniente dagli extraterrestri tedeschi ha consentito loro per esempio di costruire una base sulla luna chiamata guarda caso strano base alfa come spazio 1999 e soprattutto ci sono i report fra l'altro citati in maniera anche abbastanza pedisse qua importante oltre che sui miei testi anche nel testo di marco zagni i velivoli segreti dell'asse e quindi non ho io non ho mai problemi a citare i lavori che ritengo validi di colleghi ricercatori te compreso eccetera eccetera e conseguentemente lì viene riportato come lo riporto anch'io secondo le mie fonti il volo fra il 45 e il 46 di una un e bu terzo su la zona di marte così come sempre a proposito di astronautica nazista un certo che io ovviamente non ho la più pallida di chi sia ma un certo werner taisenberg sarebbe stato colui che il 23 agosto del 1942 tocca il suolo lunare con uno strumento missilistico tedesco c'è una v2 modificata e tocca il suolo nel mare nel mare imbrium da quella momento in poi secondo alcune voci alcune fonti non so quanto fantascientifiche o quanto credibili ma io lo riporto in questa chiacchierata da quel momento in poi sarebbe iniziata la sedicente costruzione di una base nazista sulla luna e questo senza toccare iron sky the man in die castle o wallenstein che tutti conoscono come fantascienza guarda eh abbiamo dato un sacco di input abbiamo passato l'ora e mezza mi fa piacere vedere duemila persone contemporaneamente sulle piattaforme youtube facebook e anche su x che il vecchio twitter ci sarebbe oltretutto pure da fare un ulteriore collegamento già luca perché è come dire quasi conseguenziale e che da tutto questo ne dire ne deriverebbe anche che se fossero realmente come dire concreti no nella misura in cui lo fossero se lo sono non ci sarebbe da meravigliarsi del progetto titan e del progetto pegasus portali che da questo pianeta porterebbero direttamente su marte e che fra l'altro secondo un testo della nostra ma soprattutto tua amica enrica e quindi sai bene di chi sto parlando quando fece un testo che si chiamava l'altro volto di obama e obama giovane avrebbe usato questi portali all'interno del progetto titan e del progetto pegasus ma questo ci porta pure al progetto solar warden che non so neanche a dire che cosa sia e per ulteriore connessione col progetto blue beam sai vedere che tutta questa roba che stiamo citando in qualche modo è tutta connessa da un sottile filo sembrerebbe proprio di sì quindi siete pronti a scoprire quanto è profonda la tana del bianconiglio è una citazione che va sempre bene in questi casi patricio assolutamente guarda una chicca una chicca che io stesso scoperto studiando di recente quindi è una novità pure per me a proposito per esempio della del ma è uno degli infiniti dei miei libri ed è uno degli infiniti del prossimo a proposito del delle armi a infrarosso credo che proprio nella battaglia di berlino nel 45 fossero stati distribuiti a diverse sezioni di panzer grenadieren che utilizzavano quelle armi individuali con l'infrarosso sopra delle tute mimetiche molto particolari che si chiamavano le berbaum e che erano tutte intarziate con grafite nera che serve ad assorbire i raggi infrarossi a rendere invisibile il soggetto che la indossa e che porta un'arma infrarossi a renderla invisibile a qualcun altro semmai fosse stato come dire disponibile o fruibile di armi infrarosse a sua volta le armi infrarosse ce l'hanno avute solo i tedeschi in quel periodo in quegli ultimi mesi di guerra ma qualora i nemici ce l'avessero avuto e loro avevano fatto pure le tute a grafite nero per impedire che i loro soldati venissero individuati dai nemici questo tanto per farti capire che quando io faccio un riferimento appunto per esempio al mio nuovo libro wunderwaffen aus wunderland gli alleati quindi soprattutto gli americani e gli inglesi ma anche i sovietici avevano proprio detto preciso cioè superarmi nel paese delle meraviglie perché questo era la germania di quel tempo almeno dal punto di vista tecnologico scientifico e diciamo e argomenti connessi almeno da quel punto di vista lì ripeto anzi aggiungo sempre che qui per parlare di cose perché poi se no stiamo parlando ovviamente di situazioni che sono legati ad eventi bellici e quindi sono sono eventi argomenti di cui tutti noi come dire vorremmo con tutto il cuore e con tutta l'anima che mai si ripetessero da nessuna parte che mai si svolgessero da nessuna parte purtroppo non è così anche come sempre mi sarebbe da dire su questo benedetto pianeta ma insomma per parlare di cose civili e quindi per dire che io sono un appassionato sono uno storico appassionato di storia della seconda guerra mondiale di certi argomenti più nello specifico ma insomma dal punto di vista tecnologico e per le interazioni con il discorso ufologico esobiologico extraterrestre eccetera eccetera la germania certamente primus inter pares quindi chiaramente non è impossibile non occuparsene visto quello che è stata e quello che ha rappresentato da tanti punti di vista ma tornando a un discorso civile quindi nulla a che fare col mondo militare con la guerra con gli eventi bellici e con le tecnologie che inevitabilmente con la guerra sono collegate perché purtroppo fin dall'antichità ma forse fin dalle civiltà che ci hanno preceduto il volano tecnologico più grande che ci può essere purtroppo in una società è l'evento bellico quindi qualunque innovazione affrotti avviene quando c'è una guerra prima un po meno guarda caso strano e quindi dicevo a livello civile negli anni 30 la germania è quella che produce le autobahn le autostrade è quella che produce per prima la macchina per tutto il popolo la volkswagen è quella che per prima mette nelle case di tutti i tedeschi 80 e passa milioni di persone due radio non una 2 con sovvenzione dello stato una grunding e una telefunken è la prima che nel 1936 comincia la televisione quella che noi conosciamo e che in italia negli anni 54 è iniziata come rai loro la iniziano nel 36 per la ripresa delle olimpiadi di berlino e successivamente mettono in rete la loro televisione che fino al 1942 diciamo sarà riservata ad alcune fasce della popolazione più abbienti per ovvi motivi ma dal 43 sarà riservata ai reduci di guerra i feriti che non potevano più tornare al fronte e a cui veniva regalato uno strumento televisivo per poter seguire i programmi televisivi stiamo parlando del 1943 e naturalmente ovviamente ci sono tutti quei computer antelitter sia di tipo analogico che non quelli delle poste del rai che quelli costruiti in varie postazioni che erano come dire anticipatori o coevi dell'univac dell'ibm in america tanto per capirci probabilmente lavoravano sulle linee parallele ma stavano più o meno gli stessi livelli solo che in germania c'erano tre o quattro tipi in america forse uno solo e naturalmente è tutto quello che è stato anche cose molto banali come la fanta piuttosto che il caffè decaffeinato l'hanno inventato loro come le tanniche per portare la benzina non ce l'aveva nessuno prima tutte le tanniche che noi usiamo ancora oggi sono quelle tedesche degli anni 30 sono banalità sono piccole cose ma questo per dire il il treno per il fiurero i treni per la gerarchia erano già treni ad alta velocità su scartamento diverso da quello delle rotaie questo per far capire che anche a livello civile quel paese già negli anni 30 era un pezzo avanti rispetto agli altri bene direi che le informazioni sono tante anche qui lasciamo sedimentare riascoltate più volte il video potete anche poi fare pausa e scrivere le parole chiave continuare le ricerche molto già lo trovate in quel di facciamo finta che io guarda ti voglio anche ringraziare per l'assist al libro perché l'antartide come non è nato da te sotto l'antartide è già disponibile su tutte le piattaforme e se l'ordinata anche nella vostra libreria oltre che ai nostri eventi il primo marzo uscirà anche il testo insieme a enrico de graia proprio sulla terracava continuiamo questo filone ci saranno poi delle novità anche per quanto riguarda il professor mariotti che vedremo anche presto perché ne approfitto anche per dare un po lettura dei prossimi eventi domani sarò a torrepellice con l'andi poi il 16 marzo a prato una bella conferenza insieme a vizi a ricci a susi bledi a fabio borghini a sabio insomma un po di amici che ci verranno a trovare prenotate che mi fa piacere vedere che stanno andando bene le prenotazioni il 23 marzo a parma ci sarà anche il professor mariotti oltre che il buon tombosco a seni un sacco di novità insomma anche parma andrà alla grande 6 aprile vittorio verito con andrea tosato è un sacco di amici 13 aprile escursione alla sacra di san michele con andrea cogerino 20 aprile a loreto nelle marche una bella conferenza davide rossi un sacco di amici che ci verranno a trovare poi tutti invitati a torino 11 e 12 mani nel weekend del mio compleanno sabato a teatro e domenica escursione e vi diremo poi dove mi fa un sacco piacere mi ha fatto piacere vedere l'altra volta a teatro con mariotti che è stato con noi fino a tarda serata in quel del teatro anche dopo la festa del canale e il giorno dopo ci ha giunto per il tour della torino magico alchemica che poi magari riprenderemo proprio con enrica perrucchietti che abbiamo citato questa sera e che saluto perché è una mia grande amica ne approfitto anche perché se volete sapere gli altri eventi quelli privati per chi viene in sede li svegliamo domani i primi eventi la sede webinar di aggiornamento partecipare basta mandare un'email buon messo ci metti per impressione anche la mail per gli amici nel quale seguiranno una procedura per avere il link e molti ci chiedono anche a proposito delle tue pubblicazioni quindi dici un po dove possiamo trovare chiaramente per quanto riguarda le basi tedesche in antartide e tutto ciò che è collegato il mio libro è Asgardland ovviamente è pubblicato da Lux & Coedizioni e prioritariamente e primariamente può essere richiesto sul sito internet di Lux & Coedizioni sulle store stessa cosa vale per il mio libro che è uscito pochi mesi fa che è gli aerei segreti del terzo Reich tecnologia avanguardia scientifica della Luftwaffe sempre per Lux & Coedizioni e sempre con le medesime modalità di reperimento anche se c'è la possibilità già di trovare molti di questi libri anche alla libreria Europa a Roma e probabilmente anche alla libreria Salvemini di Firenze a breve e naturalmente meridiano 361 parallelo 181 terra incognita e dintorni continenti scomparsi civiltà perdute città misteriose luoghi segreti volume 1 che è edito proprio dalla libreria edizioni Europa che potete trovare coloro uguali ovviamente ma qui non è fuori da questo tipo di canale ma è solamente un modo per farsi veramente quattro risate magari sorridere per un per un'oretta leggendo il testo chi vuole su you can print può trovare il mio bignè di storia e di cultura generale che è il rifacimento umoristico del bignami di storia di scolastica memoria bellissimo ci vediamo presto dal vivo grazie per questa puntata instancabile il nostro Patrizio Mariotti grazie a Mesbet Virretia a tutti quanti voi fedelissimi veterani abbonati ricordate che oltre le donazioni per chi vuole sostenere anche la nostra ricerca c'è il bonifico paypal post e pay ma anche il passaparola è ottimista direi che è ottimo anche il il mi piace anche un commento anche il eh condividere questo tipo di puntate sui vostri profili è un aiuto enorme che si può fare in maniera totalmente gratuita grazie a tutti buon fine settimana ci vediamo domani a voi un saluto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti